Allora, un po' di torta. No, 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 ferma. Dovrò finire quello che era il torta. Ti piace il samone? No. In Inghilterra normalmente mangiamo i uovi, i bacon, i sausage. Perché mangiare così? Allora, se non hai... Ah, non lo so, è anche una pint of Guinness. La birra. No, la mettono a birra, di mattina. Sì, è anche una birra, perché normalmente questa colazione era per tutte le persone che lavorano sul campo alle 4 del mattino. No, noi la facciamo diversamente, cioè io a casa mia la faccio diversa, io bevo il caffè e il latte a casa. Perché non l'hai mangiato in birra? Lo mangio adesso, guarda. Mangi, per favore. Allora, un po' di torta. No, no, no. E anche un po' di lamponi, mangi, per favore. Ma un po'. Questo mi piace, guarda, questo è buono. È anche questo, prova questo. Ok. Mangiato abbastanza? No, davvero, quello che ha mangiato era buonissimo. Dai, andiamo al loft. Andiamo al loft.